Una donna dell'Alto Adige di 66 anni è scivolata da una parete rocciosa nella zona della Cala del Luzzo a San Vitolo Capo, a soccorrerla prontamente le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Riserva dello Zingaro. Due squadre della stazione di Palermo sono intervenute per aiutare la donna originaria di Bolzano, che mentre stava effettuando un'escursione con un gruppo di amici, è caduta procurandosi escoriazioni e una frattura scomposta all'avambraccio destro. La turista avrebbe perso l'equilibrio russolando sul sentiero reso scivoloso dalla pioggia, anche perché, priva di abbigliamento adeguato, sembra che ai piedi avesse addirittura un paio di infradito. Lanciato l'allarme alla sala operativa del 118, sul posto sono stati inviati sette tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Palermo, che hanno raggiunto la ferita da San Vitolo Capo. La donna è stata medicata, immobilizzata e trasportata in barella per oltre due chilometri all'ingresso nord della riserva, ad attenderla un'ambulanza del 118 che l'ha trasferita all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Si tratta del settimo intervento, dal mese di aprile ad oggi, effettuato dalle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpine Speleologico nella riserva dello Zingaro. Gli interventi del Corpo rientrano nella convenzione stipulata nel 2016 con 118, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e Riserva Naturale orientata dello Zingaro, per garantire la sicurezza e il soccorso all'interno della riserva.